Ciao ragazzi Ieri è stata una giornata pessima Sono entrato in negozio alle 6.40 Non c'è più nemmeno una bicicletta, due bici mi hanno lasciato Una e due Ripulito tutto Hanno sfondato il muro Avevo 30 biciclette, 29 le hanno portate via Ed è spiazzante Abbiamo fatto tutte le denunce varie L'assicurazione ovviamente è stata avvisata Però ripartire siamo al 3 marzo, oggi il 4 marzo Non ci sono bici disponibili quasi dai fornitori Siamo senza niente È il quarto furto in tre anni Vedete tutto rotto Probabilmente hanno seguito l'attività del negozio da Da parecchio tempo perché hanno fatto un lavoro lì dietro Impressionante Stiamo cercando una nuova sede perché qua non si può più stare Vediamo nel giro di breve di capire se riusciamo a passare questo mese senza biciclette Che sono rimaste queste quattro city bike E queste cinque bici Due nuove Vi terrò aggiornati Grazie, ciao Ciao